Un ROF come non si è mai visto prima e questa volta non c'entra lo spettacolo, il calendario o le opere, bensì la tecnologia che incontra il classico e la storia grazie all'utilizzo del VR, che permetterà così a chi lo indossa di vivere spettacoli e visitare location come se fosse lì. Un ROF più accessibile, più mobile, un ROF ancora più internazionale, moderno e di tutti. La Rossina Pro Festival è sempre stato un centro di innovazione, in questo caso incontra la Casa di Tecnologie Emergenti, che rappresenta non solo il meglio che l'amministrazione comunale può mettere in campo in termini di innovazione, con i propri uffici, ma anche un incontro di tanti partner, professionisti e imprese che hanno aderito a questo progetto, che tra l'altro include anche l'Università di Urbino e quella di Ancona. In questo caso con due partner, Sinergia e Rainbow, si vanno a presentare più progetti. Intanto la ripresa in visione sferica di quelle che sono dei ormai tradizionali concerti al balcone del sabato, che potranno quindi essere resi sia nel VR, nei lettori VR e anche nella sfera in Piazza del Popolo, per un doppio effetto, anche di accoglienza per i visitatori del Festival, ma anche per poter essere poi portato in giro per il mondo in maniera semplice per portare questa esperienza nelle ambasciate, negli istituti di cultura, negli eventi in cui il Rossina Pro Festival, in nome per conto dell'amministrazione, va a promuovere anche la città e le sue eccellenze culturali. Con Rainbow, un contenuto originale creato assieme alla narrazione didattica, ma non solo, del Festival, che quindi permetterà attraverso un video di animazione, anche questo visibile con le nuove tecnologie, di percorrere, diciamo simbolicamente, un avvicinamento a quella che è un sunto delle 39 opere di Rossini. Ovviamente per noi il teatro, il teatro d'opera, è un mezzo che va vissuto dal vivo, quindi non sono mezzi sostitutivi di questa modalità di fruizione, ma sono complementari, nel senso che permettono di avvicinarsi ai nostri contenuti a persone che non possono essere fisicamente con noi, ma permettono anche poi di vedere da prospettive diverse, ad esempio i concerti dal balcone, sono ripresi anche da backstage, quindi attraverso il visore si possono vedere anche i cantanti che si preparano prima di affacciarsi al balcone di Casa Rossini e quando rientrano soddisfatti per aver fatto un'ottima prova, quindi un modo aggiuntivo per vedere dei contenuti che dal vivo non sarebbe possibile godere.